Su l'IRPF noi abbiamo una quantificazione fatta dal governo con le relative coperture per quanto riguarda i 24.000 e i 26.000, gli 80 euro a questi livelli di reddito. Andare oltre naturalmente significa avere la necessità di trovare altre coperture e quindi attendiamo di sapere dal governo quali sono i margini per poterlo fare. Forse sulla manovra IRAP bisognerebbe rimodulare l'intervento per meglio favorire le piccole e medie imprese piuttosto che non tutte le imprese in ugual misura. Poi per il resto è certamente importante per le imprese che si definisca in maniera compiuta tutta la materia del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione.